Chiarimenti in Commissione Vigilanza della Regione Abruzzo sul malinteso nato intorno alla possibilità o meno di realizzare inceneritori in Abruzzo, che ha provocato un incidente diplomatico tra il sottosegretario all'ambiente Mario Mazzocca e Mario Micone, direttore dell'Arta, l'Agenzia regionale di tutela ambientale. L'Arta aveva infatti espresso un parere di non assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica, il programma con il quale il Ministero prevede la realizzazione di un impianto rifiuti anche in Abruzzo. Un parere che ha mandato su tutte le furie le associazioni ambientaliste, ma anche il sottosegretario Mazzocca che ha ricordato che l'Arta ha espresso un parere al Ministero dell'Ambiente che non tiene affatto in considerazione la linea politica della Regione Abruzzo in materia di rifiuti, ovvero la sua assoluta contrarietà alla realizzazione di inceneritori. Ed essendo un'agenzia regionale, l'Arta dovrebbe agire in nome per conto della stessa Regione. Mazzocca e Micone si sono ritrovati così uno davanti all'altro in Commissione Vigilanza e il direttore Arta ha ribadito a sua difesa che si è trattato solo di un parere tecnico. Il parere dell'arte è un parere tecnico, non è un parere politico, le direttive regionali non si conoscevano, siamo avuti a conoscenza in questi giorni dopo di questo parere, l'abbiamo fatto solo a base del piano regionale di rifiuti in vigore, sui dati che il Ministero ci ha mandato, che sono dati coerenti col piano regionale in vigore. Quindi sul piano tecnico non c'è nulla da obiettare, su quella questione politica, ma è una questione che va partecipata e va portata a conoscenza. L'Arta dichiarata è che premesso che gli impatti ambientali su qualsiasi struttura in generatore o di scala che ci stanno sempre, non si è pronunciata in modo particolare dicendo che non è possibile fare un esame sull'impatto ambientale perché non esiste una localizzazione. Era un parere di massima sui dati in possesso del Ministero, sulla quantità di rifiuti prodotti, su quelli che vanno in descarica, su quelli che vanno riciclati. Mazzocca ha preso per buone le giustificazioni del direttore, ha ribadito la contrarietà messa nera su bianco in bendue delibere della regione Abruzzo, all'ipotesi inceneritori, ha però annunciato che si terranno incontri tra ente regione e Arta. Per il consigliere di Forza Italia Mauro Febbo, presidente della commissione Vigilanza, l'accaduto dimostra, a parole sue, che la riforma burocratica della macchina amministrativa, che doveva rendere l'Abruzzo facile e veloce, dimostra la prova dei fatti tutta la sua pochezza, dovendosi riscontrare che la mano destra, amicone, non sa cosa fa la mano sinistra, ovvero il sottosegretario Mazzocca.